Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Quando ci approcciamo alla storia da bambini, lo facciamo, credo, tutti attraverso la scuola. Scuola che, giustamente, per motivi di tempo non può raccontare tutta la storia dell'umanità, ma che si concentra su alcuni caposaldi. Ora, io ho sempre notato un particolare, che molto spesso a scuola ci raccontano come le storie iniziano, ma non ci raccontano come finiscono. Ci raccontano di come nasce la Repubblica Romana, ma ci tralasciano un po' la parte su Silla e Mario. Ci raccontano poi di nuovo di Giulio Cesare, di Augusto, di Tiberio, ma tralasciano chi siano Giulio Nepote piuttosto che Maggioriano. E poi, invece, spostandoci avanti, ci parlano magari di Carlo Magno, ma non ci parlano di Carlo il Grosso, quindi l'inizio dell'impero carolingio, ma non i suoi ultimi esponenti. Se invece proviamo a spostarci alla fine del Medioevo, uno dei periodi che maggiormente viene trattato è il Rinascimento, quel periodo in cui l'Italia fu divisa da alcune famiglie che si appropriarono del potere e che divisero l'Italia in tutta una serie di signorie che furono sì in lotta fra di loro, e questo fu probabilmente la loro dannazione, ma che fecero anche letteralmente fiorire l'Italia dal punto di vista artistico e culturale. Dopo averlo raccontato, però, a scuola ci si ferma. Ci si ferma quasi come se la carata dei francesi alla fine del XV secolo avesse in qualche modo posto fine a questa storia, interrompendola di colpo, come se tutte queste famiglie fossero letteralmente scomparse nel nulla. Le cose invece non andarono così. E addirittura quella che probabilmente è la famiglia più importante, più rappresentativa del periodo rinascimentale, cioè i medici che governarono Firenze con il loro principale esponente, cioè Lorenzo il Magnifico, quella famiglia, invece di scomparire alla fine del XV, inizio del XVI secolo, addirittura continuerà a regnare a Firenze fino al 1737. Oggi racconteremo proprio di questi ultimi anni. Racconteremo di come i medici cercarono disperatamente di rimanere al potere, cercarono di dare un seguito alla loro dinastia tanto prestigiosa, e come si spensero letteralmente in una storia piena di oscurità, piena anche di personaggi tragici molto particolari, e piena di un disperato tentativo di sopravvivere. Di sopravvivere in un mondo, che come tutti voi sapete, quello del XVIII secolo era un mondo che era ormai completamente cambiato, rispetto a quello in cui la dinastia era nata. Oggi parleremo di Cosimo III, dei suoi disperati tentativi di avere un successore, e dell'ultimo Granduca Medici di Toscana, Gian Gastone De Medici, un uomo con una vita molto particolare e che forse non ha mai avuto il giusto tributo dalla storia. Ad ogni modo, direi che l'introduzione è stata già abbastanza lunga, quindi se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare. Questa pillola probabilmente piacerà tantissimo agli appassionati di genealogia, che si troveranno a veder dipanarsi l'albero genealogico dei medici. Per tutti gli altri cercherò di essere il più semplice possibile, ma alcune cose ve le devo dire, alcuni nomi ve li devo fare, perché serviranno proprio per capire come mai i medici arriveranno all'estinzione. E vi dico già che secondo me una delle parti più interessanti di questa storia sono proprio i legami e le caratteristiche dei vari personaggi che andremo a nominare. Ad ogni modo, per partire dall'inizio, nell'introduzione sono stato leggermente impreciso, perché vi ho detto che i medici regneranno su Firenze fino al 1737. Ora, in realtà, non è esattamente così nel senso che la dinastia che regnerà fino al 1737 non è discendente, diretta per linea maschile, di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo de' Medici, che, come vi dicevo prima, sono probabilmente i due esponenti più famosi di questa famiglia, perché quella dinastia si esaurirà, andrà ad esaurirsi, appena meno di 50 anni più tardi la morte di Lorenzo il Magnifico. morto nel 1492, la dinastia terminerà nel 1537, con la morte di Alessandro, che teoricamente era bisnipote di Lorenzo il Magnifico, anche se c'era qualche dubbio sulla paternità rispetto al padre, che si chiamava Lorenzo, anche lui, Lorenzo II, e quindi forse non era realmente già facente parte di questa dinastia. Ad ogni modo, che lo fosse o non lo fosse, quando nel 1537 sarà assassinato da un cugino, con la sua morte, terminerà la linea maschile proveniente proprio da Cosimo il Vecchio. Nel 1537, a questo punto, a diventare signore di Firenze, sarà un lontano cugino di Alessandro, che si chiamava Cosimo, e che faceva parte sempre della famiglia Medici, ma di un ramo collaterale, il cosiddetto ramo popolano. Ora, il ramo popolano si era distaccato parecchio tempo prima dalla linea principale, perché se la linea principale originava da Cosimo il Vecchio, nonno di Lorenzo il Magnifico, il ramo popolano originava dal fratello di Cosimo il Vecchio, e per tutti quegli anni era cresciuto, aveva progredito, sempre in parallelo rispetto alla linea principale, avendo peraltro anche una serie di esponenti importanti, tra cui uno dei più famosi è Giovanni dalle Bande Nere, l'ultimo capitano di ventura italiano, e molto spesso anche mischiandosi proprio con il ramo principale. Proprio per questo Cosimo, il primo signore di Firenze del ramo popolano, era allo stesso tempo sia discendente del ramo popolano per via maschile, sia discendente del ramo principale per via femminile, perché la madre era una nipote, per via femminile ovviamente, di Lorenzo il Magnifico. Quindi in qualche modo Cosimo, che diventerà appunto Cosimo I, riuniva queste due famiglie in uno. Ad ogni modo da Cosimo, che diventerà il primo Granduca di Toscana, originerà questa nuova linea dinastica, chiamata proprio la linea Granducane, che arriverà fino al 1737. A noi però non interessa raccontare di tutti i vari svolgimenti, ma facciamo un salto in avanti, perché la storia che vogliamo raccontare oggi inizia nel 1670. Ora voi direte, ma se devi arrivare fino al 1737, perché parti dal 1670? Beh, perché in realtà la nostra storia parte con l'inizio del regno di uno dei Granduchi più longevi della storia, Cosimo III, che regnerà addirittura dal 1670 al 1723. Un regno lunghissimo, che ovviamente sarà il regno più lungo tra tutti i Granduchi di Toscana, e che al tempo stesso sarà un regno molto travagliato e che purtroppo getterà le basi della fine della dinastia. Ora, Cosimo III, quando salì al potere, lo fece in una Toscana che era molto più indebolita rispetto a quello che avevamo conosciuto nel Rinascimento. Tutta l'Italia era indebolita, era stata indebolita prima dalle invasioni, dalla spartizione politica fatta dalle grandi potenze, e poi si era indebolita dal punto di vista economico, anche perché i commerci, che fino appunto alla fine del XV secolo erano strettamente passati attraverso l'Italia, si erano spostati con le grandi scoperte geografiche verso l'Atlantico. E questo aveva fortemente indebolito l'economia italiana, un'economia che seppur fatta da stati piccoli fino al XV secolo era probabilmente l'economia più viva e potente di tutto il continente, e l'aveva resa un'economia molto più debole rispetto ai grandi stati che lo circondavano. La Spagna, il Portogallo, la Francia, il Sacro Romano Impero guidato dall'Austria e addirittura anche l'Inghilterra. In questo Stato, la Toscana, ovviamente, aveva tra i principali obiettivi quello di assicurarsi la propria successione. E dato che ogni matrimonio reale era anche una scusa per intestere delle relazioni con i grandi stati, così in qualche modo da salvaguardare l'autonomia del Gran Ducato stesso, il matrimonio di Cosimo III non fece eccezione e venne fatto sposare ad una cugina del Re Sole, Luigi XIV. Il matrimonio tra i due, come spesso accadeva all'epoca, ovviamente fu completamente organizzato e i due addirittura non si videro fino a dopo le nozze che avvennero la prima volta in Francia per procura, quindi senza che fisicamente Cosimo si fosse spostato in Francia per incontrare la sua promessa sposa. Quando Cosimo incontrò Margherita Luisa d'Orlean, questo era il nome della moglie, i due non si piacquero per niente. A Cosimo non piaceva quella donna che si era trovata, che considerava frivola, civettuola, senza una particolare cultura. A Margherita Luisa, invece, Cosimo pare che non piacesse dal punto di vista fisico, un po' perché non era in effetti una gran bellezza, un po' perché era stato da poco colpito dal morbillo e questo gli aveva lasciato una faccia abbastanza devastata, ma soprattutto lo aveva debilitato dal punto di vista fisico. Quando in più Margherita aveva lasciato la corte francese e si era spostata in Toscana, aveva dovuto fare i conti con una corte molto più piccola rispetto a quella a cui era abituata, ovviamente senza lo sfarzo e la ricchezza della corte francese, ma soprattutto molto molto più bigotta, perché Cosimo III, sotto l'influsso della madre, aveva iniziato, anche già quando ancora non era salito al potere, a cercare di far spostare la Toscana in un'orbita, potremmo dire, ecclesiastica, con l'emanazione di alcune leggi, che poi verranno poi emanate quando salirà direttamente al potere nel 1670, che concedevano fondi alla Chiesa, imponevano regole rigidissime dal punto di vista morale, andavano a colpire le minoranze religiose, ci saranno leggi contro gli ebrei, molti dei quali saranno costretti ad abbandonare la Toscana, e in generale davano delle regole alla corte molto chiuse, molto religiose, molto diverse rispetto a una corte molto più aperta dal punto di vista culturale e della morale, come quella appunto di Luigi XIV. Quando poi, divenuto Cosimo nuovo granduca, Margherita si rese conto che le sue possibilità di intervento erano quasi nulle, perché Cosimo rimaneva sotto l'ala della madre, e questo lo rendeva un po' il classico italiano, per così dire, ad ogni modo Margherita decise che ne aveva sufficienza, e dopo lunghe discussioni, dopo aver addirittura ricevuto la visita di alcuni delegati mandati da Luigi XIV, che in qualche modo cercava di sanare la situazione, resisi conto di due sposi che non avevano nessuna possibilità di sanare i loro rapporti, Margherita prese e se ne tornò in Francia, uscendo definitivamente dalla nostra storia. E quando dico definitivamente intendo veramente definitivamente, perché i due non si parleranno mai più dal vero, non si vedranno mai più dal vero, e addirittura quando Cosimo ha avuto a notizia che Margherita, ritiratasi in un castello in Francia, conduceva una vita, a suo modo di vedere, un po' troppo licenziosa, e cercò di intervenire, Luigi XIV, gli fece presente che ormai il loro matrimonio era solo un matrimonio di facciata e lui non aveva più alcun potere sulla propria moglie. Quindi, Margherita Luisa la togliamo, ma Cosimo rimane in Italia, rimane in Toscana. In realtà, a Margherita Luisa era stato dato il permesso di lasciare l'Italia anche perché, se vogliamo, il suo dovere, tra virgolette, lo aveva fatto, nel senso che già aveva partorito tre figli e aveva dato una successione a Cosimo. Due figli maschi, il primo e il terzo, e una figlia femmina, quella ovviamente di mezzo. Dei tre, inutile dire che Cosimo fin dall'inizio si affezionò tantissimo al figlio primogenito, Ferdinando, il quale, in qualche modo, divenne la sua speranza. Ora, come vi dicevo, la Toscana all'epoca era in una fase di forte involuzione economica e le leggi imposte da Cosimo sicuramente non migliorarono la situazione, anche perché per finanziare opere pubbliche a vantaggio della Chiesa, per finanziare, pensate, un provvedimento per cui si offrivano dei soldi a tutti coloro, soprattutto tra gli ebrei, che decidevano di convertirsi al cristianesimo. Bene, per finanziare tutte queste opere era stato necessario tassare fortemente la borghesia toscana e questo, immaginate, tassando ovviamente quello che era il ceto produttivo principale, non aveva fatto altro che indebolire l'economia e alla lunga portare a dei danni. Ad ogni modo, in questa situazione complessa, Cosimo cercò di far crescere il proprio figlio Ferdinando, figlio primogenito, come colui che un giorno sarebbe dovuto succedergli al trono e le cose, almeno dal punto di vista intellettivo, sembravano andar bene. Cosimo era un uomo molto apprezzato, colto, intelligente, amava viaggiare, amava l'arte, diventerà uno dei migliori mecenati d'Europa, un uomo che letteralmente viaggerà per l'Europa alla scoperta dell'arte e si farà accogliere in molte, da molte delle corti venendo apprezzato in quasi tutte loro. Ovviamente però, per poter succedere al padre, era necessario, all'epoca ovviamente era così, ne abbiamo già visto con Cosimo, trovare un matrimonio adeguato che potesse fornire una prole. E dato che non si voleva legarsi eccessivamente alla Francia, in effetti Luigi XIV aveva proposto una propria nipote come possibile moglie di Ferdinando, ma la cosa venne scartata, in un'epoca in cui la Francia e gli Asburgo sembravano un po' contendersi il ruolo di guida dell'Europa, si decise di volgere verso il lato tedesco e di far sposare Ferdinando con Violante di Baviera. Inutile dire che anche questo matrimonio fu un disastro. In realtà Violante di Baviera era una donna intelligente, una donna colta e probabilmente dal punto di vista caratteriale i due avrebbero potuto anche avere buona fortuna, ma c'era un problema. Ferdinando era un uomo che amava tantissimo la vita e ne amava soprattutto i divertimenti, soprattutto dal punto di vista sessuale, tanto che si diceva che avesse uno stuolo gigantesco di amanti tra servitrici, nobile donne, attrici, amava moltissimo il mondo dello spettacolo e che queste amanti fossero letteralmente sparse per mezza Italia e lui non si faceva nessun problema ad andare avanti indietro ad incontrarle invece che stare a Firenze con la moglie che inutile dire la cosa la sopportò fino a un certo punto poi se la legò al dito e iniziò a non parlare più allo sposo. A peggiorare agli occhi di Violante le cose il fatto che il suo sposo non avesse solo amanti donne ma avesse anche amanti uomini cosa che in qualche modo era anche trapelata aveva dato scandalo e in una corte un po' più chiusa come quella bavarese poteva creare molti problemi a Violante. I due in realtà cercarono di fare dei figli perché al netto che ci si potesse amare o meno quello era il compito dei nobili ma nonostante cinque anni di tentativi non ci riuscirono in nessun modo anche perché anche se all'epoca non era noto Ferdinando aveva già contratto la Sifilide probabilmente presa durante uno dei suoi viaggi da una delle sue amanti Sifilide che gli aveva inizialmente danneggiato l'apparato riproduttore ma che poi col passare degli anni si diffonderà nel corpo e lo porterà ad una demenza giovanile perché la Sifilide per chi non lo sa è una malattia venerea che però col progredire degli anni dà un danneggiamento anche a livello cerebrale bene quando il matrimonio sembrava non dare figli Cosimo cercò in tutti i modi di intervenire da uomo molto religioso cercò prima di consigliare alla coppia di stare più tempo insieme poi iniziò a chiedere che si tenessero delle preghiere in tutto il Gran Ducato per la fertilità di Violante addirittura giunse a far costruire una colonna della fertilità che venne consacrata un rito che forse di Cristiano non aveva molto sembrava essere più qualcosa di pagano che addirittura spingerà il popolo di Firenze ad eridere questa scelta di Cosimo ma ogni tentativo sarà inutile man mano che le condizioni di Ferdinando peggioravano e ci si rendeva conto che non solo non avrebbe avuto figli ma probabilmente sarebbe addirittura morto prima di Cosimo e in effetti sarà così man mano che le condizioni di Ferdinando peggioravano Cosimo si rese conto che doveva trovare un'altra strada che quel figlio primogenito su cui aveva puntato tutto non poteva succedergli e allora doveva trovare qualcun altro che potesse farlo e chi era quel qualcun altro? beh ve l'ho detto i figli maschi erano due saltando la figlia femmina ma non saltiamola troppo perché poi tornerà in questo discorso come vedrete ve l'ho detto che è un qualcosa di complicato sembra una commedia piena di eventi improvvisi saltando la figlia femmina il terzo figlio secondo figlio maschio si chiamava Gian Gastone ora tanto Ferdinando era rimasto per tutta la vita vicino al padre tanto invece Gian Gastone era stato fin da giovanissimo allontanato dalla corte costretto a vivere molto spesso lontano dal palazzo lontano dall'affetto del padre che pare non si interessasse particolarmente di lui ovviamente lontano dall'affetto della madre che se ne era addirittura tornata in Francia dopo averlo dato alla luce e a parte un legame particolare con la sorella in realtà aveva sempre vissuto sostanzialmente da parte allontanandosi dalla corte pare che la cosa non gli dispiacesse per niente perché non aveva nessuna intenzione di acquisire del potere anzi pare fosse di personalità molto malinconica non amava apparire all'aria aperta non amava muoversi talvolta passava intere giornate a letto era un uomo che amava molto i piaceri della tavola quello sì quello l'aveva in effetti ereditato da Cosimo che per tutta la parte giovanile amava molto mangiare e su entrambi dal punto di vista fisico si vedeva e soprattutto il nostro Gian Gastone era un uomo molto molto intelligente colto amava tantissimo leggere non amava tanto viaggiare come il fratello ma amava sicuramente molto l'arte e aveva addirittura imparato tantissime lingue tra cui i contemporanei facevano presente che parlasse addirittura l'inglese che oggi ci sembra normale ma all'epoca tra tutte le lingue europee era sicuramente una tra quelle meno diffuse sicuramente meno del tedesco del francese che stava diventando la lingua internazionale o dello spagnolo che lo era stato fino a quel momento ad ogni modo il nostro Gian Gastone ovviamente si vide puntare nuovamente i riflettori da parte del padre quando ci si rese conto che Ferdinando non poteva più succedergli pensate che il padre fino a quel momento aveva addirittura evitato di dargli una moglie e quando erano state avanzate delle proposte le aveva tutte rifiutate perché pare non volesse investire del denaro per dare una giusta casa al figlio il problema però era in realtà un altro e la cosa all'interno del Gran Ducato era assolutamente risaputa perché se Ferdinando era libertino ma era bisessuale Gian Gastone era a sua volta libertino anche se in maniera forse un po' più locale per così dire ma era apertamente omosessuale e non aveva nessun interesse verso le donne anzi negli anni aveva creato intorno a sé una piccola corte che era nata dall'incontro con un servitore che si chiamava Giuliano Dami che inizialmente ne era diventato l'amante e poi era diventato l'organizzatore di tutta una serie di festini che si tenevano intorno alla residenza di Gian Gastone e aveva creato una piccola corte di ragazzini più o meno giovani che gli venivano portati che partecipavano alle sue feste che venivano chiamati i Ruspanti perché ricevevano dei pagamenti in denaro delle piccole monete chiamate appunto Ruspe da Gian Gastone e che in qualche modo avevano creato questa specie di corte dei miracoli che ruotava intorno a Gian Gastone molto spesso lo taglieggiava rubandogli del denaro rubandogli degli oggetti ma che in realtà lo accompagnava nel corso della sua vita la cosa inutile dire che a Cosimo non piacesse perché quel figlio sarà anche stato omosessuale ma avrebbe dovuto fare il suo dovere e dare alla luce una prole che assicurasse a Cosimo una discendenza e quindi l'unico modo per riuscire a farlo era necessario sposarlo chi scegliere però come moglie di un figlio così particolare quantomeno nei gusti beh la scelta ricadde ancora una volta in Germania in Sassonia dove peraltro su indicazione della sorella tra poco ne parleremo che era andata proprio sposa in Germania si scelse una nobile donna proveniente dalla Sassonia che però fu probabilmente una scelta terribile perché perché questa donna era nota per essere insopportabile addirittura era già stata sposata e si diceva che il marito che era morto a causa dell'abuso di alcol si fosse dato proprio all'alcolismo per cercare di dimenticarla o quantomeno di non ascoltarla parlare era rozza era volgare era una donna che non aveva nessun interesse nell'arte e nella cultura e che al contrario amava la vita all'aria aperta amava i cavalli amava la vita semplice insomma l'esatto opposto del nostro Gian Gastone i due avrebbero teoricamente dovuto vivere a Firenze ma la donna che pare fosse stata informata che in passato alcune mogli di Granduchi erano morte in circostanze sospette inizialmente aveva rifiutato di spostarsi dai suoi domini aveva un castello nella zona della Bohemia e Gian Gastone era stato costretto dopo averla sposata a spostarsi in questa zona inutile dire che i rapporti tra i due erano pessimi uno perché gli interessi dal punto di vista sessuale erano diversi due perché Gian Gastone sicuramente non era un bellissimo uomo tre perché anche dal punto di vista intellettivo i due non c'entravano per nulla e così Gian Gastone dopo aver provato a rimanere un po' in Bohemia essersi intristito aver deciso di lasciare la sposa e iniziato a viaggiare per l'Europa spinto dal padre a tornare ancora una volta in Bohemia per fare un estremo tentativo alla fine rifiutando qualunque possibilità di giungere a un accordo appena un anno dopo il matrimonio che si era tenuto nel 1697 nel 1698 deciderà di tornare in Toscana mettendo fine per sempre a qualunque possibilità che lui potesse dare un successore alla casata il nostro Cosimo però intanto aveva iniziato a farsi i suoi conti Ferdinando stava per morire era peggiorato nessuno poteva aspettarsi più nulla da niente Gian Gastone sembrava non voler far dei figli in nessun modo bisognava trovare una soluzione e sicuramente la soluzione non poteva essere lui dato che ormai era decisamente troppo avanti con l'età nel 1709 ed è però un'idea in effetti il nostro Cosimo aveva un fratello che si chiamava Francesco Maria il quale però era stato avviato fin da giovane alla carriera ecclesiastica e in quel momento era un cardinale bene nel 1709 dopo aver scongiurato quasi obbligato il fratello e aver ottenuto una dispensa papale il nostro riuscì a fargli abbandonare l'abito talare e a farlo sposare con una giovane nobildonna italiana della famiglia dei Gonzaga dei Gonzaga la quale aveva all'epoca solamente 17 anni il matrimonio tra i due non fu un grosso successo perché innanzitutto il nostro Francesco Maria nonostante avesse circa una cinquantina d'anni era in condizioni fisiche pessime era un uomo che aveva decisamente abbondato nei vizi durante la vita molto grosso afflitto da numerose malattie e anche nel suo caso non particolarmente attraente cosa che inizialmente spingerà la ragazzina anche giustamente data la differenza d'età ad essere talmente disgustata da non volersi unire a lui ma poi dopo che la ragazzina fu costretta diciamolo chiaramente quelli erano i tempi e i due in qualche modo ebbero consumato il matrimonio comunque le sue condizioni fisiche non gli permisero di procreare e addirittura due anni più tardi nel 1711 si spense senza lasciare alcun erede ma lasciando una vedova che da quel momento visse in giro per l'Europa peraltro travolta da tutta una serie di scandali e morirà molti anni più tardi purtroppo anche lei colpita da demenza giovanile Cosimo III però non si diede neanche in questo caso per vinto tutt'altro e fece un ultimo estremo tentativo ve l'ho detto che aveva una figlia femmina Anna Maria Luisa che giovanissima era andata in sposa in Germania al principe del Palatinato un matrimonio inutile che ve lo dica che non aveva avuto nessuna fortuna i due non si erano particolarmente amati e che non aveva avuto figli quando il principe era morto Anna Maria Luisa aveva deciso di tornare a Firenze e nel 1711 il padre decise di puntare tutto su di lei innanzitutto convinse il consiglio dei nobili toscani ad accettarla come possibile erede alla morte di Cosimo dopodiché cercò di fare la stessa cosa con i principi con i signori del resto d'Europa nel timore che se questi non l'avessero accettato ovviamente alla sua morte sarebbero intervenuti e avrebbero conquistato o comunque si sarebbero spartiti i territori toscani questa seconda fase andò malissimo andò malissimo perché sotto il regno di Cosimo la Toscana si era sostanzialmente trovata quasi isolata dal punto di vista politico-diplomatico quando era scoppiata all'inizio del XVIII secolo la guerra di successione spagnola infatti Cosimo legato per motivazioni ovviamente familiari alla Francia aveva deciso di appoggiare proprio il candidato francese alla successione al trono spagnolo ma la cosa non gli aveva portato particolarmente fortuna perché gli Asburgo dopo aver vinto in Italia numerosi scontri erano calati sulla Toscana si erano ricordati che dopo tutto Granduca di Toscana era parte del Sacro Romano Impero e quindi gli doveva obbedienza e per essersi schierato seppur non militarmente solo politicamente con i francesi decisero di chiedergli una pesante tassazione una pesante tassazione che letteralmente mise completamente a terra le casse dello Stato e se possibile peggiorò ancora più ulteriormente la situazione economica e ripeto isolò dal punto di vista politico-diplomatico il Gran Ducato il risultato fu che gli Asburgo si rifiutarono apertamente di concedere questo passaggio di potere ad una figlia femmina e continuarono ad insistere perché invece il potere potesse passare a Gian Gastone sapendo benissimo che prima o poi Gian Gastone sarebbe morto e il Ducato Gran Ducato sarebbe tornato nelle loro disponibilità addirittura Cosimo farà un ultimo folle tentativo di risolvere la situazione proponendo di ripristinare una Repubblica Fiorentina che era terminata ormai da parecchi secoli ma che lui propose di ripristinare qualora la sua dinastia fosse morta senza lasciare eredi ovviamente trovando accoglienza in Toscana trovando anche l'aiuto di qualche potenza internazionale a cominciare dall'Inghilterra che in effetti temeva che l'Austria-Ungheria potesse allungare le sue mani su tutta questa zona ma non riuscendo ancora una volta a farsi accettare il piano alla fine ad accordarsi su cosa fare per la Toscana furono le grandi potenze che nel 1718 con Cosimo III e Gian Gastone ancora vivi decisero che a succedergli al trono qualora ovviamente la dinastia dei Medici si fosse interrotta sarebbe stato un principe spagnolo Don Carlos figlio di Filippo V ma su di lui torneremo tra poco ad ogni modo il nostro Cosimo le aveva letteralmente provate tutte negli ultimi anni cercherà ancora di far accettare la figlia cercherà di spingere ancora per la Repubblica cercando letteralmente in maniera disperata un modo per poter salvare la sua dinastia e per poter salvare Firenze da un destino che lui temeva potesse essere quello di essere spartita insieme a tutta la sua arte tra le grandi potenze nel 1723 però a più di 80 anni e con una vita che peraltro nell'ultima fase era diventata molto morigerata anche nel mangiare perché proprio forse per cercare di vivere il più lungo possibile aveva iniziato ad ascoltare quello che i medici gli dicevano ma ovviamente questo non l'aveva reso immortale nel 1723 alla fine Cosimo III si spense e al suo posto salì al potere proprio Gian Gastone Gian Gastone a differenza di quello che molti si potevano aspettare in realtà si rivelerà un buon governante per Firenze innanzitutto porrà fine a tu molte delle leggi che erano state iniziate dal padre interruppe i finanziamenti alla chiesa interruppe le leggi liberticide sulla libertà religiosa addirittura stimolò la ripresa degli studi il padre aveva vietato all'università di Pisa di insegnare le teorie di Galileo lui addirittura farà degli eventi a Firenze per onorarne la memoria cercherà di dare impulso alla rinascita economica finanzierà la nascita di una nuova borghesia fiorentina in Toscana che potesse in qualche modo far ripartire l'economia del Gran Ducato ed in generale si comporterà da buon amministratore peraltro pensate coinvolgendo nella gestione dello Stato non solo la sorella Anna Maria Luisa ma addirittura la cognata quella violante di Baviera ve la ricordate che era stata sposa di Ferdinando ovviamente nera vedova e che per molti anni accompagnerà proprio Gian Gastone nel governo del Gran Ducato anche perché pare che i due fossero molto legati addirittura fin da quando Violante era arrivata a Firenze e aveva trovato in Gian Gastone probabilmente l'unico in quella stranissima corte che in qualche modo la capisse e riuscisse a legare con lei il regno di Gian Gastone però sarà anche un regno molto particolare anche perché man mano che le sue condizioni fisiche e mentali andranno declinando progressivamente si eclisserà sempre di più dalla vita pubblica tanto che addirittura negli ultimi anni di vita qualcuno iniziò a pensare apertamente che Gian Gastone in realtà fosse morto e che la sorella non volesse divulgare la notizia per continuare a gestire lo Stato tanto che addirittura alla sua corte giunsero a chiedergli per favore di apparire in pubblico almeno una volta l'anno proprio per cercare di porre fine a queste voci ma progressivamente Gian Gastone si ritirerà sempre più nei suoi appartamenti negli ultimi mesi non si alzerà più dal letto anche perché era diventato letteralmente enorme dal punto di vista fisico anche se pare che mantenne una mente molto molto accesa molto molto vivace fino agli ultimi giorni nel 1732 poi era riuscito almeno a parole sue ad avere finalmente un figlio perché perché nel 1732 era giunto in Toscana Don Carlos che teoricamente gli sarebbe dovuto succedere giunto lì insieme a delle truppe spagnole quando era arrivata la notizia che Gian Gastone fosse sul punto di morire cosa che in realtà non era vero ma come vi dicevo le voci circolavano quando i due si erano incontrati a Gian Gastone questo giovane spagnolo era stato fin dall'inizio molto simpatico tanto che quando poi aveva firmato il suo testamento lasciando ovviamente proprio a Don Carlos e tutti i suoi possedimenti nel momento della firma aveva detto che quel figlio che non era riuscito ad avere in 40 anni di matrimonio era riuscito ad averlo semplicemente con un tratto di penna e pare che i due non andassero particolarmente d'accordo in realtà però non sarà Don Carlos a succedere a Gian Gastone dei Medici perché nel 1735 tre anni più tardi alla fine della guerra di successione polacca una serie di spostamenti dinastici in Europa porteranno il nostro Don Carlos a diventare re di Napoli e poi diventerà anche re di Spagna di lì a qualche anno e al posto suo a divenire nuovo principe ereditario al Gran Ducato di Toscana arriverà il Duca di Lorena Francesco il quale privato del suo titolo e delle sue terre giungerà proprio in Toscana come futuro successore di Gian Gastone il 9 luglio 1737 dopo un regno comunque molto più lungo di quello che ci si poteva aspettare Gian Gastone morì nelle ultime ore le sue condizioni erano rapidamente peggiorate i Medici avevano avvertito il suo successore erano state date all'uomo le estreme unzioni e a metà di quel 9 luglio 1737 l'ultimo della dinastia dei Medici a regnare sul Gran Ducato di Toscana si spense curiosamente Francesco di Lorena che gli successe non regnerà molto a lungo sulla Toscana perché diventerà marito di Maria Teresa d'Austria imperatore del Sacro Romano Impero nascerà ai figli la gestione del Gran Ducato figli che tramite la nuova dinastia appunto degli Asburgo Lorena regneranno sul Gran Ducato con una pausa nell'epoca napoleonica fino all'unità d'Italia insomma un regno che in qualche modo sarà lungo e che e questo forse in qualche modo bene raccogliendo quelli che erano i timori di Cosimo eviterà di spargere per il mondo quella gigantesca collezione di arte e cultura che era stata messa in piedi dalla famiglia Medici in realtà i Medici come famiglia non scompariranno del tutto ci sono dei rami collaterali che sono addirittura sopravvissuti fino ad oggi ma da allora non avranno più ovviamente il controllo della Toscana perché questa pillola a me piaceva raccontarla beh piaceva raccontarla come vi dicevo all'inizio per i personaggi questi personaggi che veramente si muovono in quella che sembra quasi una commedia dell'arte in cui le cose sembrano dover andar male perché devono andar male una serie di sfortune di scelte sbagliate una dopo l'altra su cui però emergono dei personaggi molto spesso dimenticati o raccontati in maniera macchettistica come Gian Gastone dei Medici che invece hanno una loro forte profondità perché Gian Gastone al netto degli aspetti ripeto che sembrano più ridicoli a cominciare dal fatto di essere veramente un uomo talmente obeso ad un certo punto per non potersi più alzare dal letto era un uomo molto intelligente un uomo a cui la Toscana probabilmente deve quell'inizio di rinascita economica che seppur ovviamente in forma molto minore rispetto al rinascimento ma i tempi erano completamente cambiati continuerà sotto il regno degli Asburgo Lorena insomma un uomo che forse non è sotto la luce come il suo lontano antenato in realtà non è sì l'antenato tra linea femminile Lorenzo il Magnifico ma che in qualche modo con la sua cultura e la sua voglia di migliorare quella Toscana che si era trovato a governare in qualche modo rappresenterà proprio l'anima l'anima migliore di tutta la famiglia Medici ad ogni modo io mi fermo qua spero di essere riuscito a mettere a posto alcuni problemi audio perché questa pillola l'ho registrata una volta e l'ho dovuta riregistrare perché l'audio non so perché era diventato pessimo spero di essere riuscito ad aggiustarla spero che vi sia piaciuta come sempre e questo mi sembra assolutamente doveroso vorrei ringraziare abbonati ai Patreon perché è anche grazie al loro sostegno che questo canale riesce a produrre il suo materiale e a dare spero a tutti modo di interessarsi e divertirsi oggi in particolare vorrei ringraziare Carlo Mannucci grazie mille per il tuo sostegno continuato fino ad oggi veramente grazie spero che quello che facciamo possa essere di tuo gradimento ad ogni modo per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia e chissà magari presto anche per raccontare la storia di altre famiglie italiane a presto ciao ciao